ciao benvenuti in questo video vediamo un brano di pino kille no buono guaglione iscriviti al canale come sempre e al sito qui vedremo gli accordi dicevo iscriviti al sito per ricevere lezioni che non carico qui su youtube tab novità in base al tuo livello principiante ritmica blues improvvisazione invece intermedio e fingerstyle classica lezione armonia poi c'è il canale telegram gruppo facebook scusa le lezioni da le principiante se sei un principiante mi raccomando non rompere cioè devi partire dalle lezioni finché sei principiante playlist su youtube sulla home del canale youtube mentre sotto il video c'è tutta il link per andare al corso completo e alla playlist comunque vediamo subito quello che gli accordi chile no buono guaglione mi minore settima te li mostro un attimo sono mi minore settima si minore settima quindi la minore settima si minore settima dopo vedremo do diesis minore settima in questa forma do settima do maggiore settima maggiore si bemolle maggiore settima maggiore mi settima sus4 e mi utilizzeremo uti possiamo utilizzare un ritmo a bossa quindi facendo mossa pure ho fatto un minicorso sempre giambiero bruno puntitti puoi andare a dare un'occhiata si minore si minore alterno i bassi la minore posso farlo anche in un'altra qua o qua alternato mi minore qua si minore settima la minore alternato mi minore qua si minore settima la minore capisci capisci quando cambia quando cambia quando cambia do diesis minore settima col bar re al nono tasto tutto 9 9 9 9 9 do maggiore settima maggiore settima maggiore do si bemolle cioè non vedi le dita ma devi sentire il suono parte che sopposizione e mi settima o puoi farla così si si bemolle mi settima maggiore si bemolle mi settima maggiore si bemolle mi settima maggiore io vedi una versione di renato garuso bravissima chitarrista che mostrava questa intro poi in seguito magari magari inserirò sotto guarda sotto il video e trovi magari una tab in seguito ok lasciami un non mi piace mi raccomando e iscriviti al canale e noi ci sentiamo al prossimo video io ti ringrazio per essere stato con me ciao visita i video che seguono se hai tempo ciao ciao ciao